Continua l'attenzione delle istituzioni di Caltanissetta nei confronti della sanità nissena. In particolare, venerdì, a seguito di una formale richiesta da parte del segretario generale della CGL Angelo Polizzi e del coordinatore del comparto sanità Alessandro Lamarca, il prefetto Chiara Armenia ha presieduto una riunione per discutere le problematiche inerenti alla sanità locale. Nel corso dell'incontro, le parti si sono confrontate su diverse questioni in uno spirito di grande collaborazione. Nella consapevolezza che solo un dialogo costruttivo e leale può condurre a risultati positivi nel settore della sanità ad esclusivo vantaggio dei pazienti. Erano presenti il direttore generale dell'azienda sanitaria, il dottor Alessandro Caltagirone, il direttore sanitario, la dottoressa Marcella Santino e il direttore amministrativo, il dottor Salvatore Iacolino. È stata l'occasione per trattare alcune tematiche, mentre per altre si è deciso di rimandare a separati tavoli che si terranno presso la locale azienda sanitaria, con l'impegno da parte di tutti a evitare contrapposizioni e chiusure che ostacolino il dialogo. Il prefetto, inoltre, nel prendere atto dello spirito di collaborazione manifestato durante il confronto, ha richiamato l'impegno di tutti ad affrontare le diverse questioni con toni pacati, evitando qualunque forma di personalismo e agendo sempre con l'esclusiva intento di perseguire il bene comune.